Ah Cegno di gatto Vi siete spaventati eh Mi sa che questa volta Devo aggiungere il boss di spaventare la compilation No Ti sei spaventato eh Dai aggiungi anche questa alla compilation Ma che cavolo ci fai là sotto No vabbè io non ho parole Ciao a tutti ragazzuoli Io sono Fancy Non ridere Cosa Non fai mai più che mi ha preso un coccolone Comunque se non si fosse ancora capito Dalla miniatura dal titolo Dall'intro oggi siamo tornati Su una nuova compilation Dimmi i peggiori spaventi Ho voluto racchiuderne 40 In realtà sarebbero tipo Il triplo però ho voluto evitare di metterli Tutti visto che già questi bastano Per farvi capire che sono Mascolino quanto un coniglietto Che mangia una carota Mentre guarda il tramonto E vi starete chiedendo Ma perché lo fai proprio in questo momento A caso Mi andava di Racchiudere in un unico video 40 spaventi Così Poi comunque so che adorate Sentirmi urlare come una checca Indemoniata Quindi Perfetto Per cui ragazzi Vi lascio i primi 20 spaventi Poi ci prendiamo una piccola pausa Giusto per non farvi vedere tutto di filato Quanto sono checca Poi ce ne saranno altri 17 E poi la top 3 E andranno da dove mi sono spaventato meno A quelli dove ho rischiato di crepare male Che sono gli ultimi 15 più o meno A tra poco ragazzi E non giudicatemi troppo Ognuno si spaventa come vuole BATTELE FIDO BRAVO COSÌ TI VOGLIO MA CHE Non lo sapevo io Il coniglietto Ma che dolce C'è però porca puttana Ma che BASTA MA UNA GOVERNANTE IN QUESTA CASA Sento ancora rumori brutti Ma chi è questo Vai a lei dove vai Cosa stai facendo Mi sono cagato addosso Ma basta storso C'è ancora storso del cazzo CHE Non mi sono spaventato E' soltanto di pressione tranquilli Ho i battiti già accelerati Lo sapevo Por Madonna E' esplosa Ok c'è Ma poi come Non tocca Adesso Mo ce l'avrò sopra Scommentiamo Guarda come lo sto dicendo Esce un ombra Cuffie Rotte sicuro Ma porca vacca Ma baffanculo C'era una signora anzianissima Adesso è spaventato Ti prego Stai lì a fissarlo O bruci il telefono Niente Ste cuffie sono destinate a rompersi oggi Potrebbe essere anche in camera da letto Che p'aspettano Niente Lui si arriva CHE AAAAA AAAAA Madonna che brutta cosa Non so perché Stai lì Stai lì Stai lì Ho capito No CHE Ah non vattene Ti prego Ma non rimane lì a fissarla Stabambi BAH Anche io lo vado a chiur Ma E Eh no Ci sono pure i cadaveri Lei l'ho staccato Hai scattato AAAAA Oh schuss Ho staccato il filo Mi sono cagato in mano E pagare le bollette Però No No Oh che cos'era Non è la soluzione AAAAA BASTA AAAAA 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 Snapchat Disinstalla Porca bacca Io sarei già morto AAAAA Dai tranquillo Adesso rimane solo Ho capito bene Vuole chiamare la polizia Però lei non vuole Allora avete dei problemi AAAAA Chissà perché mi ostino a continuare a prendere infarti Tanto lo so già che succederà Eppure Io continuo Devo avere sicuramente qualcosa che non va Dei seri problemi Sono già finiti i primi 20 spaventi Sì che virgolè Sono mascolino vero E non avete ancora visto nulla Vi lascio agli altri 17 A tra poco Io continuo A fare versi Ma qua hai messo un pochino meglio rispetto a prima eh Che No Porca Tra due secondi Jumpscare Ve lo dico Oh Porca Detto che l'ho fisso AAAAA No Ma porca Derek Ti ammazzo pure io se non muori tu Non so cosa ho detto Mi sto per cagare addosso Io lo so C'è che un panda l'hanno visto Fatti aiuterei da lui AAAAA 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 Che poi alla fine sono la stessa persona Sempre che non sia un demone mostruoso E ma Madonna si sta girando AAAAA Poi ti mettono pure la musichetta capito E' infestata la pa- AAAAA BASTA AAAAA Porca Incastrato dentro un Gabbiala morto AAAAA Sofia Possiamo fare qualcosa Sofia Devo scrivere Sof- AAAAA AAAAA Madonna c'è AAAAA What's happening What's happening We're trying to kill us AAAAA 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 La mia vita sto per finire ragazzi Where are you Where are you AAAAA Arriva eh Adesso sbuca Ti prego AAAAA Lo sape AAAAA CHE BELLA AAAAA Non ce la faccio più AAAAA 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 Non ti girare No Piano AAAAA 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 Le head Utilizza la luce Per accecare i nemici E poi gli stacca la testa AAAAA 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 Ci avete messo solo due ore Avete capito che qua è un casino eh Perchè Dov'è AAAAA AAAAA Non ci posso credere Mi sono veramente spaventato anche qua AAAAA Che hai visto? C'è il tuo fidanzato nudo? AAAAA 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 Porca puttata AAAAA AAAAA E' l'unica spiegazione AAAAA 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 Ma che versi sono? Sì Senti meglio Chi ti vuole dire quanto sei scema? AAAAA 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 Tutti i movimenti devono essere fatti Dolcemente AAAAA 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 Mamma mia Devo andarmi a nascondere Ragazzi che mi devo dire Sono fatto così Ogni volta che sento un suono forte Mi cago in mano Come avete potuto notare Ma ragazzi rimangono gli ultimi tre Che proprio Robe che si vedono solo su altri pianeti Suoni mai sentiti prima Ma qui potrete sentirli per la prima volta Non stavo parlando di questo Che è sta luce Guarda che brutta fine che hanno fatto Perché c'è sta luce Ma non fare versi inutili Sì ok non c'è niente Non è stata una bella idea Vero scendere E ormai si è fottuta È andata via Così Mi fa male il braccio E anche il petto Secondo voi qualcuno mi premerà mai Per tutti questi infarti che ho preso Ma l'ho urlato Come una scimmia urlatrice Bene ragazzi Questi erano i miei ultimi 40 spaventi Cioè non che non ne prenderò più Nel senso che Quelli dell'ultimo anno più o meno E la strada ancora è lunga Comunque ragazzi spero vi abbia fatto piacere Vedere questa compilation Così a casissimo Magari Sono riuscito a farvi sorridere un attimo Con questi suoni dai Chi è che non riderebbe Però come sempre Prima di concludere Vado a salutare Alessia De Rossi Martina Russo Manux E Stefania Carapia Ciao ragazzi Il vicitore di oggi Stefania Carapia Grandissima E raga mi raccomando Se volete essere salutati Vi basta scrivere un commento divertente Sotto a questo video E non ti vi ricordo che in descrizione Trovrete tutti i link dei miei social Instagram, Facebook E quindi se va Seguite mi su Instagram Asciutto a bel mi piace La pagina di Facebook Iscrivetevi al canale per supportarmi E raga vi do l'appuntamento Ad un prossimo episodio Ciao ragazzi